Dopo la dai! Sì, adesso c'è durante due minuti che non mi dico. Sì, perché era questione di bambini che fosse con la sua vita. All'ingresso tra due minuti sono io. Scanare? Non so, non è la gioco. Bene! Brava Dina! Bene! Vai, Andrew! 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 Vai Andrew 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 Sopra Stai sopra A centro Stai sopra Stai sopra Stai sopra Stai sopra